Oggi parliamo di periodo ipotetico. Ti consiglio, se non hai seguito la lezione immediatamente precedente a questa, di andarla a rivedere, quella sulla proposizione condizionale, perché avere ben presente, aver capito bene che cos'è la proposizione condizionale, ovviamente ti aiuta a capire il periodo ipotetico. Periodo ipotetico significa pensiero, perché sappiamo che il periodo è un'espressione del pensiero di senso compiuto, ipotetico. Cos'è un'ipotesi? Un'ipotesi non è altro che una supposizione, è qualcosa di cui io non ho la certezza. Quindi possiamo dire che il periodo ipotetico è un periodo che esprime un'ipotesi, cioè una supposizione. Da questa supposizione deriva una conseguenza. Vediamo subito un esempio. Se pioverà, prenderò l'ombrello. Allora, come al solito io ho due verbi, pioverà e prenderò, quindi ho due proposizioni, eccole qua. So che questa è la principale, so che questa è una subordinata. Divido qua la mia frase. Questa è la principale e quindi è anche la reggente di questa, che è una subordinata di primo grado. Questa subordinata io so che è una condizionale. Ecco allora che noi abbiamo costruito un periodo ipotetico, cioè queste due proposizioni insieme costituiscono il periodo ipotetico. Allora possiamo dire che il periodo ipotetico è formato da una proposizione condizionale e dalla sua reggente, quindi insieme queste due formano un periodo ipotetico. Nel periodo ipotetico la proposizione reggente è chiamata apodosi, mentre la proposizione condizionale è chiamata protasi. Ecco il nostro periodo ipotetico. Quindi insieme formano un'unica espressione che ha un significato logico, ma che mi dà una ipotesi, una supposizione, qualcosa che potrebbe capitare e che avrà una sua conseguenza. Se pioverà, a condizione che pioverà, la conseguenza quale sarà? Che io prenderò l'ombrello. Naturalmente io qui per semplicità ti ho fatto l'esempio di un periodo ipotetico in cui abbiamo la principale che è anche la reggente e poi la proposizione condizionale, però il periodo ipotetico può anche essere inserito in un periodo complesso. guardiamo questi due esempi. Pino pensa che non ti qualificherai se non ti alleni. Intanto vediamo che qua ci sono ben tre proposizioni. Pino pensa che non ti qualificherai se non ti alleni. Quindi abbiamo un periodo più complesso rispetto a quello di prima. Analizziamolo. Pino pensa che non ti qualificherai se non ti alleni. Pino pensa è la nostra principale. Che cosa pensa Pino che non ti qualificherai? Quindi subordinata di primo grado esplicita oggettiva. Se non ti alleni. Qui abbiamo una subordinata di secondo grado esplicita condizionale. All'interno di questo periodo noi possiamo individuare il periodo ipotetico che è questo. Se non ti alleni non ti qualificherai. periodo ipotetico. Vedi che in questo caso la principale non rientra nel periodo ipotetico ma questo periodo ipotetico è comunque formato da una proposizione condizionale e dalla sua reggente. Come abbiamo visto nella definizione precedente. Veniamo al secondo periodo. non ti qualificherai se non ti alleni quando devi. Non ti qualificherai è una proposizione. Se non ti alleni è un'altra. Quando devi è una terza. In questo caso non ti qualificherai è la principale. Se non ti alleni è la subordinata di primo grado esplicita condizionale. Quando devi è una subordinata subordinata di secondo grado. Dov'è qui il periodo ipotetico? È qua. Non ti qualificherai se non ti alleni. questa è la condizionale e questa è la sua reggente che in questo caso è anche la principale. Ti ho fatto questi due esempi proprio per farti capire che non è che ti devi aspettare un periodo ipotetico pulito formato solo dalla condizionale e dalla sua reggente. Il periodo ipotetico può anche essere inserito all'interno di un periodo che ha altre proposizioni. Ora che abbiamo capito che il periodo ipotetico è formato da una proposizione condizionale e dalla sua reggente dobbiamo imparare però che queste due proposizioni non possono stare insieme così a caso ma seguono delle regole ben precise a seconda del tipo di periodo ipotetico. Abbiamo tre tipi. Partiamo dal primo che si chiama periodo ipotetico della realtà. ricordati protasi, apodosi. All'interno del periodo ipotetico del primo tipo o periodo ipotetico della realtà noi abbiamo sempre i verbi all'indicativo o all'imperativo. Se piove prendo l'ombrello. Se sei stanco fermati. Se pioverà prenderò l'ombrello. Perché si chiama periodo ipotetico della realtà? Perché l'ipotesi che viene espressa dalla proposizione condizionale è qualcosa di reale. Se piove prendo l'ombrello. In più noi sappiamo che il modo indicativo viene anche proprio chiamato modo della realtà perché viene usato tutte le volte che io sto parlando di qualcosa di certo. Guardiamo gli altri tipi. Periodo ipotetico del secondo tipo. Il secondo tipo è la possibilità. Cosa vuol dire possibilità? Possibilità significa che l'ipotesi che io ho nella protasi, cioè nella proposizione condizionale, non è detto che sia certa, però è possibile. Se avessi tempo prenderei un caffè. È qualcosa che può realizzarsi. È un'ipotesi, una supposizione che può avverarsi. In questo caso io devo utilizzare nella proposizione condizionale il congiuntivo imperfetto. Avessi. E nella sua reggente il condizionale presente. Attento. Congiuntivo imperfetto, condizionale presente. Non scambiare il posto a questi due modi verbali perché sarebbe un errore gravissimo. Infine, come ti ho anticipato prima, il periodo ipotetico del terzo tipo, cioè il periodo ipotetico della irrealtà. Beh, irrealtà lo capisci facilmente cosa significa. Significa che l'ipotesi che viene espressa dalla proposizione condizionale sappiamo già che non si è verificata oppure che è assolutamente impossibile. Se avesse avuto tempo, avrei preso un caffè. Ma c'è differenza da quello che abbiamo detto prima, perché se avessi avuto tempo significa che non ce l'ho avuto, quindi il caffè non l'ho preso. Allora, questa condizione di avere il tempo non si è verificata, pertanto è irreale. Irreale nel senso che non ha potuto accadere. Se lo avessi saputo, adesso non sarei qui. Certo, però se ci sono vuol dire che evidentemente io non ho fatto in tempo a saperlo, quindi questa ipotesi di saperlo non si è verificata. In questo caso io devo usare nella proposizione condizionale il congiuntivo trapassato e nella podosi invece, cioè nella sua reggente, il condizionale che può essere condizionale passato oppure condizionale presente. C'è un altro tipo di in realtà che non distingo tanto dal modo dei verbi quanto dalla logica. Se io dico se avessi le ali volerei, beh, si capisce che anche se ho il congiuntivo imperfetto e il condizionale presente, in questo caso però è sempre un periodo ipotetico della irrealtà, perché io so già che le ali non ce le avrò mai. Allora, ti ho preparato uno specchietto riassuntivo perché è importante che tu capisca bene l'abbinamento dei modi verbali, quindi nel periodo ipotetico della realtà ho l'indicativo in tutte e due le proposizioni, nel periodo ipotetico del secondo tipo la possibilità o congiuntivo nella condizionale e condizionale nella sua reggente, nel terzo tipo, cioè in realtà, ho di nuovo congiuntivo e condizionale. Ti ripeto ancora una volta, non scambiare mai di posto congiuntivo e condizionale perché faresti veramente un errore terribile. Quindi oggi abbiamo imparato che cos'è un periodo ipotetico, quanti tipi di periodo ipotetico ci sono e soprattutto come si usano i modi verbali. Non mi resta che augurarti buon lavoro e magari ci vediamo alla prossima lezione.